Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale, sono qui in compagnia di mia moglie, che è questa, è Slimer che vi parla, e stasera ci facciamo la prima partita al gioco di Ghostbuster, gioco che avete visto l'abbiamo già fatto su Tabletop, però abbiamo anche in versione scatolata che ci ha regalato Yuzhenka, che ancora una volta ringraziamo. Allora, in questa missione dobbiamo acciuffare Slimer, e qui ci vedete, siamo appena arrivati con la Act One, e la missione del nostro obiettivo è quello di acciuffare Slimer, mentre invece l'obiettivo di Slimer è quello di, faccio una ripresa un po' più lontano, andare su questi portali che vedete qui, quindi questo, quello, quello di là, e questo di qua, lui li va a mangiare perché sono portali fatti di melma, e se ogni volta che prende un portale lui diventa sempre più forte, quindi ci vogliono più flussi per prendere, e se riuscisse a prendere tutti e quattro i portali, la missione sarebbe fallita perché lui, dopo che si è riempito la pancia di melma, andrebbe a scomparire, quindi mangia tutti quanti i portali e sparisce. Quindi bisogna prenderlo con i Ghostbuster prima che vada a sparire, per acciuffarlo Slimer, che c'è la carta qua giù, vedete che di base ci vogliono per intrappolarlo 10 flussi, quindi per prendere Slimer è un bel casino, e quindi bisogna muoversi perché potrebbero anche salire flussi. Ricordati che 10 flussi vuol dire ogni Ghostbuster ce n'ha 5, quindi almeno 2 Ghostbuster, no? Ok, per colpire al 4 o più, perché Slimer è un fantasma di classe 5, quindi non è facilissimo fare sta cosa, però o acciuffiamo lui, ok? Mai difficile perché sono troppi flussi, o meglio ancora chiudiamo i portali, quindi la cosa meglio da fare è chiudere i portali, perché lui si muoverà in senso così, quindi da di qua verso destra farà il primo portale, poi andrà su, poi andrà di là e poi andrà di qua. Slimer si muove ogni volta che un giocatore finisce le sue azioni, e si muove di una casella verso il portale successivo, come c'è scritto appunto nel setup della carta che è qui, vedete che c'è scritto lo scenario e un successo in trappola Slimer, Slimer raggiunge il segnalino Melma 4, oppure un fantasma deve emergere dal mondo degli spiriti, che ovviamente non ce ne sono più, quindi bisogna anche stare sempre attenti di acciuffare anche i fantasmi che sono in mezzo alla mappa, perché se no, quando non ce n'è più nel portale, avremo perso la partita. Questo è un po' il succo. Allora, prima azione, mia moglie è andato laggiù dove c'era un fantasma che era un duo, mi sembra, un duo spavento, l'hanno acciuffato e l'hanno buttato dentro direttamente Egon, che ha tirato il secondo flusso, l'ha messo nell'Hecto One, quindi l'hanno acciuffato. Io ho tirato con un flusso di, quello giallo è Ray, Distance, l'ho tirato anch'io su un duo spavento, l'ho colpito, però praticamente quando li colpite questi bastardi si muovono di uno verso di voi, quindi mi ha smelmato prima lui, perché ovviamente è passato sopra a Ray, è passato sopra a Winston e è andato qui, quindi mi ha già smelmato tutte e due. Poi nel suo turno Winston ha provato con la sua unica azione a prenderlo, l'ha mancato, quindi lui è tornato indietro, è andato qua e poi con la sua griglia di movimento la griglia ha deciso che tornasse qua giù in fondo. Quindi è sempre collegato al flusso dello zaino protonico di Ray, però ci ha smelmati tutte e due, quindi Ray non ha più azioni e Winston non ha più azioni. Nel prossimo turno ovviamente io con Ray e la sua abilità vado a levare la melma a Winston, così mi prendo un punto esperienza a Ray e poi Ray non farà nulla e magari nel turno dopo farà la sua azione per levarsi la melma. Comunque la situazione non è disperata, ovviamente è appena iniziata e Slime si sta muovendo sempre verso quelli Slime lì che deve andare a mangiare. 1, 2, 3, qui potrei attaccare, 1, 2, 3, sì. Potresti attaccare lui e se gli, no, 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 sì sì sì, scusa è in visuale. Se riesce a prenderlo praticamente ha Slime, tra l'altro è diventato forte, ha mangiato la prima melma e ha preso più uno per esserciuffato, prendilo perché si sa per svuotare il mondo degli spettri, devi tirare un 4 più. Vai. 4, metti lì il flusso di Egon, te lo metti sulla tua scheda, il problema è che c'hai meno un'azione, quindi non lo puoi mettere subito sulla griglia, no? Però quando dopo lo metteremo dentro l'acto 1, prenderemo un punto esperienza, uno per Egon e uno per Ray, perché c'erano i flussi. Ora la missione ovviamente è fermare Slime, quindi io scelgo di andarla a intercettare. Lui però si muove di 1. Lui si muove di 1, scavalca, ovviamente scavalca e va lì, e io ora ho tutte e due pronti perché li ho allevato alla melma di dosso e quindi con la prima azione ci sono niente o tre da Slime, no? No. Mi devo muovere e faccio 1 e 2 per cercare di intercettarla anche dopo. Ok, e provo a sparargli un flusso addosso. Il problema è che per mettergliene 11 e poi si arriva laggiù. Allora, intanto tiro il, dov'è? Il primo, vediamo un pochino. No. Perfetto, due. Quindi quando lo manchi, Slime, vediamo un pochino cosa fa. Allora, vediamo un po' le regole. Quando colpito, quando mancato, ogni Ghostbuster adiacente viene smelmato. Poi Slime muove di due caselle in una direzione casuale. Quindi ogni Ghostbuster adiacente, quindi Ray, borda, un'altra volta, si ripiglia una melma che gliela metta addosso e ora tira sulla griglia perché si muove di due caselle in una direzione. Quindi se lui è qui, lo ritorna qui. Sì, ok. No, c'è andata bene. È tornato indietro. È tornato indietro, però poi dopo riprenderà la strada più breve sempre per arrivare laggiù. Non è andata benissimo. Tocca a Winston, che Winston, vediamo un pochino. Cerco anche, oh sì, provo a prendere un fantasma. Visto che ho due azioni con Winston, provo. Alleva un fantasma di mezzo? Eh sì, perché ce ne sono due. Eh, ce ne sono due. Allora, provo a prendere questo qui, sempre al 4 o più. Oppure, aspetta. Eh, cosa posso fare? Oppure, intercetti qui, per andare qua, data a chiudere. E provo a prendere quello lì piccolino da 1? Eh, sì. Tanto per... Iniziamo a levare quelli da 1. Hai detto bene. Hai detto benissimo. Allora faccio 1 e 2. Anzi, no, faccio 1. Così sono a 3 da quello. E speriamo che una volta ogni tanto. No. 1. Quindi, quando quello lì lo manchi, mi sembra che il piccolino, il galoppante, che è questo qua, quando ho mancato, muovi due caselle in una direzione casuale. Quindi, tira il dado. 4. Quindi, così. Ok, niente. Stasera, le cacca. Quellino che è Slimer. Ragazzi, sì. Ragazzi, l'ammacalo. Ragazzi, vi dico soltanto che Slimer, come nel primo film di Ghostbuster, questo è Vinkman nel rosso, che Peter, che l'ha colpito, è di mia moglie. E Slimer, quando viene colpito, si muove di due, verso il Ghostbuster, che l'ha colpito, e ci vuole la frase, mi ha smerdato. Vai. No. È stato smerdato. No. Il problema è che ci siamo focalizzati troppo su Slimer. Qui ci sono Vinkman e Ray, che gli hanno messo un flusso a testa, però tanto ce ne vogliono altri 10, e Egon e Winston si sono adoperati per chiudere quel portale. Però, oltre a non avercela fatta e sono spawnati un casino di fantasmi, ora il problema è che qua giù c'è rimasto un fantasma solo. Quindi, quello poi entrerà in campo. E appena dovesse entrare in campo un altro che non è presente, ovviamente, nella zona dei fantasmi, la partita è persa. Quindi, ormai, per forza di cose, questa missionetta ha fatto capire che non ti devi basare soltanto su prendere Slimer, anche perché siamo tutti smerdati. Quindi abbiamo perso tutti qua, addirittura Stance Ray deve perdere completamente in azione per elevarsela. E la cosa che bisogna fare ora è iniziare a ciuffare un po' di fantasmi e portarli dentro l'Ecto-1. Quindi direi che te con Egon, con la tua unica azione, prendi l'Ecto-1 e avvicinala a quel portale. Così siamo più vicini a buttarli dentro, capito? Perché se no, qui ci inculicchiano. A prendere questo più piccolino. Egon, prova, hai detto? A prendere questo più piccolino. Ok, e dov'è Egon? Egon è qui. Ok, sì, ce l'ha perché il portale non blocca la visuale. Uno, però lui quando fa uno, prende un punto esperienza, eh, Egon. Quindi dagli un punto esperienza. E non ha più azioni, perché quella merma lì non se l'è tolta. Quindi Slimer si muove di ancora uno, avanti. No, no, avanti e basta. E rischia di andare... Non c'è un coso... No, no, ci passa, ci può passare. I fantasmi sono eteri. E rischia di smerdare Winston, che è quello viola. Movi il tuo secondo personaggio, che è Peter. No, allora è saltato il turno. Ah, si è pulito? Porco mondo. Io ora, visto che con Winston c'ho un'azione, lo provo a insaccherare. E poi con Stance ce ne ho due. Quindi, prima faccio Winston. Prova a sparare la Slimer, che lo devo prendere ovviamente col 4+, o se no, forse è meglio mandare un fantasma dentro il suo mondo. Perché lì ne manca uno. Eh, allora, aspetta, è vero. Prova a prendere quel fantasma lì. Prova a prendere il piccolino. Prova a prendere il piccolino col 4+. Vai! 5, quindi il flusso glielo ho messo. Passamolo. Ora, ovviamente avendolo preso, lo metto sulla scheda di Winston e gli attacco sopra il flusso di Winston. E con la prossima azione lo devo portare alla macchina per scaricarlo. Però dai, almeno un turno in più si è guadagnato. E ora toccarrei che con la prima azione le faccio fare 1 e 2. Va qui. Il problema è che non lo vedo, perché c'è quel gas che mi blocca la visuale. Quindi con la prossima azione faccio a questo punto qui Vinkman. Faccio 1 e 2 e vado direttamente qua. Bisogna bloccarlo, perché c'è rimasto soltanto questo di fantasma dentro e tra l'altro Slimer per essere preso ha bisogno, ce n'ha 2 attaccati, ma ha bisogno di 12. Capito? Ah, tra l'altro, quell'altro simbolino che ci ha attaccato, chi glielo aveva sparato? Peter? Sì. Peter, sì. E c'è a distanza 3. Eh, occhio, perché sennò si stacca. Eh, ma infatti quest'altro... Bisogna stare a te, perché i flussi a 3 di distanza si staccano. Stiamo perdendo ma lì... Allora, devo essere sincero, questa è la prima missione, perché vedete, ogni prima missione, ovviamente per dare un po' di varietà al gioco, se no dopo una volta avete finito le 4 della campagna lo rivendete, ha delle varianti, questa è la 4 dove bisogna prendere Slimer. Guardate il casino che c'è sul tavolo, i flussi che avevamo su Slimer sono stati interrotti ovviamente per la mancanza di visuale, anche perché abbiamo spostato l'Ecto 1 nel mezzo, quindi... Ora, ha mangiato 3 portali, ci vogliono 13 flussi per prenderlo e ragazzi, detto onestamente, nella scheda dell'Omino de Marshmallow ci vogliono 10 flussi per prenderlo. Nella scheda di Slimer ci vogliono, perché è un mostro di classe 5, è un boss, ci vogliono 10 flussi per prenderlo. Ora, il gioco è bello, divertente, mica arma, ma 10 flussi per Slimer no, cioè 5 flussi per prenderlo. No, no, ma infatti per prendere lui, l'Omino de Marshmallow, ci vogliono 10 flussi, ma posso capire, porco mondo, è un gigante, è disumano, è alto come un palazzo, ma Slimer no. Cioè, va bene che è agile e difficile prenderlo, però quanti? 5? Ma mangia buffet a strafogo e mi metti 10 cose. Cioè, ragazzi, come ora, senza offesa, ma qualcuno, scrivetecci nei commenti, qualcuno l'ha superata sta missione, cioè come fai a tirargli 10 flussi? No, aspetta, noi abbiamo avuto molto sfortuna con i dadi, eh. Aspetta, c'è scritto una cosa, non l'ho letto. Cosa? La regola per intrappolarlo, 10 flussi da almeno 4 Ghostbuster, quindi devono essere tutte e 4 che li sparano per prenderlo, per forza regola, perché anche se riesce a fare 10 flussi in due person... È come film, eh. Sì, anche se riesce a fare 10 flussi da due personaggi, non lo piglio uguale. È come il film l'hanno fatto. Sì, ma è impossibile. No, sarebbe... Allora, sta missione sarebbe già difficile se non ci fossero i fantasmi, se ci fosse solo Slimer. Sarebbe già difficile, perché oltretutto lui, quando lo manchi, ti viene addosso e ti smerda, e smerdandoti ti leva azioni, come vedete. Ragazzi, è impossibile. È impossibile, infatti, penso che questo qui sarà l'ultimo turno, anche perché lì non ce n'è più. Sì, ma ribadisco che abbiamo avuto molta sfortuna con i dadi, ci capitava fisso 1, 2, 1, 2... Sì, ma 10 flussi per me sono troppi, è veramente... Troppi, sì, avrebbero dovuto mettere 5, 6... Piuttosto, la vuoi fare difficile? 4 flussi, 1 per ogni Ghostbuster, che non è facile riuscire a mandarne un assegno con tutti e 4. Ma così no. Le Winston blu o rosse. Ragazzi, come voleva si dimostrare, è arrivato, è impossibile. Vi dico onestamente, non è una lamentela, però questa missione ha bisogno di una Home Rules, perché, ribadisco, per prendere con 10 flussi Slimer, dovrebbero fare una missione dove c'è solo lui. Perché come fa a tenere sotto occhio anche tutti i fantasmi? E in più, come dice la carta, guardate, 10 flussi da almeno 4 giocatori. Per me sarebbe stato più bellino 4 flussi, però da 4 giocatori, perché anche così dovresti impegnare tutta la squadra degli Acchiappa Fantasmi, dei Ghostbusters, solo per prendere Slimer. E basta che un solo flusso venga interrotto, che lui si libera e scappa. Così ci può stare, ragazzi, ma 10 flussi da almeno 4 Ghostbusters è troppo. Abbiamo perso, ma questa missione non è che è impossibile. È proprio si è tappata male, secondo me, è pensata male. Quindi, prossima volta, sicuramente, ne faremo un'altra. Vabbè, è andata così, si è perso. Però, ripeto, una missione per me era impossibile vincerla. Stars! 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 Dov'è? Pere, 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 pere. Ragazzi, svelato l'Alcano. Allora, Slimer, nella versione americana, e vi giuro me l'ha fatto vedere mia moglie, si è detto, andiamo a vedere la versione inglese, perché ci sono le carte in tutte e due le lingue. Nella versione inglese, guardate qua, 4 stream, quindi 4 flussi, da almeno 2 Ghostbusters. Ve l'avevo detto che mi sembrava strano Slimer fosse così forte, perché qui c'è scritto, 10 flussi, da almeno 4 Ghostbusters. Però, è la stessa carta dell'Omino de Marshmallow. 10 flussi, da almeno 4 Ghostbusters. E ci sta, per buttar giù una cosa del genere. Quindi, è un errore di traduzione. Slimer, avremmo perso uguale la missione. Però, Slimer, si acciuffa con 4 stream, da 2 Ghostbusters. Quindi, è molto più facile. Copiato e incollato. Eh, l'ho detto, l'ho detto. L'ho detto ora. Copiato, copiato e incollato. Capito? Quindi, è un errore di traduzione, è un po' fatto a canetto. Meno male, vai.